Ciao a tutti, hola a todos, Max Ronchi e Nelly Gonzalez. Oggi siamo qui intanto per farvi tantissimi auguri di buona Pasqua. Ovviamente spero che siate tutti a casa e quindi perché, come ben sapete, quest'anno il Salsaneve e Cuvania total purtroppo non ci sarà, perché è la situazione che tutti ormai conosciamo. Esattamente, quindi questo è un video per tutti voi, per mandarvi i nostri sorrisi, i nostri in bocca al lupo, perché sicuramente ci rivedremo presto per farvi ballare con le nostre lezioni, i nostri stage, le serate, naturalmente quelle del prossimo Salsaneve. Quindi un bacio a tutti. Quindi uno smac a tutti quanti e mi raccomando tenetevi in contatto con gli organizzatori dell'evento per tutti gli aggiornamenti. Ok, adesso godetevi qualche nostro video. Ciao. 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 1, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.